Sono di nuovo pronta per il combattimento, grazie Salve a tutti ragazzi, benvenuti al vostro Soul of Gamer qui in un nuovo episodio di Binary Domain Per l'ultima volta ci siamo lasciati con una nuova relazione tra Dan e Faye E il nostro caro Kane ha avuto il buon senso anche se una testa di latte di... Testa di lattano latte, vabbè Di andasse E ha fermato il nostro scindo Dall'intromettersi Adesso non so che dobbiamo fare, probabilmente spero che ci sia qualcosa da fare più presto possibile Uh, ok, vedi C'era qualcosa di cui avevamo bisogno Ne abbiamo bisogno di un altro? No, ok, credo che basti uno Cosa vuoi? Ok In pratica non ci credeva per niente capaci Anzi, all'altezza di una ragazza come lei Eh, vero Quindi era single Ed è morto pure proprio da schifo Mi mancherà Credo che la sessione francese Sì, zitto Ecco, i frame Non so perché in certi posti i frame se ne vanno A fa' un culo Invece in certi Tutto bene Uh E sai che ti dico? Me ne frega Un cazzo Oh, finalmente A quanto pare sono riuscito a trovare il posto dove devo andare Sinceramente Sì, sono pronto Ho dovuto fare un taglio incredibile Perché Non sapevo dove dovevo andare Ho girato tutta la base Ma a quanto pare ha fatto bene a tagliarlo Perché sarebbe stata una grande rottura di palle per tutti voi Eh, addio Addio, frame Non so che cosa gli è preso a questo gioco Ehm Vabbè Oddio Perché fa così mo? Ok A quanto pare sembra che i frame sono ritornati stabili Ehm Che palle Vi chiedo scusa per i frame a scatti Ma purtroppo il mio computer non è uno dei migliori Comunque cerco di fare sempre del mio meglio Ah, ecco Mr. Botulino Comunque E fammi indovinare Chi lo stanzo che caccia i soldi Io Ti sembro forse un contabile? Mettilo sul conto di Charlie È quello che volevo sapere Grazie Ti posso portare un fucile in testa E spararti un bel proiettile Mo? Botulino Muoviti Yashiki Che ti succede? Mhm Sei di nuovo ubriaco Oh cazzo Voi tutti rimanete dove siete Non me l'ha mica detto che era strabico Emo Vengo schiacciato Non ho mai schiacciato Ma che razza di scherzo Io non capisco Botulino Attacca Come no? Ah tu guarda un po' per questo È un figlio del nulla Si è sconvolto Brawkane Però scusa Hai fatto saltare la testa Due robo E quello il cendro No Che cattiverie È solo a perdere Cercano noi Come rovinarci la giornata Shindo Andiamo Di qua Che palle mi fune Ti fa sempre Di conoscere Shindo Muovi il culo Vado il robot fuori controllo E scappa Che devo fare? Io gli sparo Gli sparo Ah Vedi Gli dovevo sparare Poi ci credo che Sono quasi morto Mi ha tirato un Posso Meglio che me ne va No Faccio tutto da solo Grazie Aspetti Io adesso ti libero tutte le braccia E vediamo che si può fare Che cosa vuole fare? Che vuole fare? Ecco fatto Cambio arma Così Dovrei fare prima Ho sbagliato Ho sbagliato Dovevo ricaricare No Come si faceva ricaricare? Ah ok Così Formidabile Formidabile Oddio Diventato un cavallo Magari a salvarmi il culo Da ballerina Da ballerina Posizione Un caccio in curo Eeeh Eeeh Vabbè Quindi ho disattivato tutti Ok Uh munizioni Mi servono Dove? Dove? Qua? Oh Oh Aspetta che ho visto Munizioni Ma con quello al 100 Me lo dici Che sei Oh cosa succede? No 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 Questo non era parte dei piani Sì Però io Prima non ho fatto i potenziamenti Adesso voglio prenderli Perché i frame Prima si erano andati a Puc Vabbè Che potendo andare alla fine Non li uso Perché mi bastano quelli che ho Dammi un po' di Kit E sto a posto No Non lo sto a posto Non sto a posto Voglio vedere i potenziamenti Per le armi Spero che il fucile Possa essere potenziato Un pochino di più 9000 Eeeh No però mettere la potenza di fuoco La fruttura c'è rimasto 9000 E come l'ho fatta a potenziarla prima Non lo so Aspetta che Andiamo va No Ok Siete pronti? Ce l'hai la patente almeno che vuoi guidare un auto mezzo del genere? No a quanto pare Scappa 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 Ma dove c'è uno stessi di del guidatore? Non so spesso per aria Certo ho visto il mio migliore amico morire Essendo una testa di latta Oddio non potevamo morire Essendo una testa di latta ma Quelle teste di latta riescono a imbrogliare tutti Perfino se stessi E' una roba folle E' stato con noi per quasi dieci anni Per tutto il tempo il ministero sapeva dove eravamo No Non credo che il ministero sia coinvolto Quei robot sono modelli Amada Non del governo Credevo che Amada fosse colluso con il governo Forse non sono poi così vicino Però una cosa che mi sembra strano è Come mai non ha preso il controllo di Kane Visto che anche lui è un robot Tutti i robot Robo Hanno Circuiti che possono essere bypassati E fregarsi La loro coscienza o riscriverla No Ovviamente i denti sono fatti con i tic tac qua Porca puttana di nuovo lo stesso spino Non si può fare i cazzi su quello? Oddio ancora quelle macchinine Poi lì Mh Bastare duro sarà tua madre Tutto stronzo Meno male che era una via sicura Charlie dovrà trovare In effetti non finì Charlie e Rachel mi pare sì E Big Bo voglio anche Ma vai a fare in culo Fa vedere agli sbirri cosa sai fare Ah ok Vediamo come ve la cavate stronzi Uno E tu che ci fai là sopra Perché ce le hai tu me le dai Ah no sto sparando con il mio Il fucile Va bene Pensavo fosse la mitotitice leggera A quanto pare mi sbaglio Molto facilmente Vieni qua Vieni qui Più vicino Se no Ok Ok Ehm Pochi colpi ci sono voluti Ma devo continuare a sparare da qua Perché mi ricordo che ci sta Che potevo prendo posizione Eh dai Aspetta c'è qualcuno Eh lo so Cerca di superarci Non si passano In sorpasso In limiti di velocità Yep Questa è Questa è zitta Questa è zitta A punti parla per te Eole Eccoli qua sopra Non la vedo per bene Per il momento Ok Mi copri tu con un fucile precisione che non spari mai Grazie che tu mi copri una pistoletta Ok Ok Qui ci sono attaccati come superman Cavolo Ce n'è un altro Vediamo che è piuttosto Dai Fatto fuori E' un po' vicino Cambiamo arma C'è un distributore di armi Sento Eeeh Ciao core Uno Due Tre A culo l'ultimo colpo ovviamente E tu che ne sai E poi come tiene l'ami tagliati ci dovrebbe saltare in testa probabilmente Due core sono Eh sono quasi le 8 Oggi è giusto solo un video O un missile Con piacere Ciao Cambia, cambia Ooooooooh Si Ok Perfetto So che credo di aver bisogno di altre munizioni Perché le ho quasi finite Ah bravo Un colpo solo è sparato in tutta la tua vita E è azzeccato Brava intelligenza artificiale Eeeh Eeeh Meeeeeetta Aspetta vediamo se questo è qualcosa Proprio Eeeh Quanti però Aspetta vediamo se No niente Manco tutto Manco Eeeh Puoi Attaccare Intanto la tua Prendermi un po' di munizie Perché a quanto pare le ho finite tutte Fugile d'assalto Massimo E mitraglietta Non tutte Ma vabbè Numero del premio Tutto stronzo Guarda se tirchio Oh merda Oh Ma non mi fa sparare Evita la Banco per il cazzo Non l'avevo notato Anzi non l'avrei mai detto Ok Fortuna ho fatto scorta di munizione Eh mi ha fatto tornare indietro Quando sei stronzo Aduo Sarà F Ce l'ho fatta Yeppi Rallenti Che l'ho fatta Voglio un trofeo Ho visto Proprio come avevo pianificato Oh Certamente Perfetto Prossima permata La Mada Corporation Come no Finalmente possiamo riprendere fiato E vabbè ragazzi Io direi che possiamo terminare qui Perché oggi mi ha fatto incazzare non poco E sinceramente è passata pure la voglia di registrare Ma credo che per un 15 16 minuti Ci esca un video Ma probabilmente Non so se registrerò Probabilmente romani Comunque ho sempre dei video da parte E va bene Ci vediamo al prossimo video di Pinali Domain Con il vostro Soul of Gamer Ciao ragazzi